Gallo, Balestrieri, mette la palla giù, finisce 25-23 il quarto set, si aggiudica il match la Consulego di Bisignano nei confronti dell'Allianz Sofinas Vole di Castrovillari col punteggio di 3-1. La Consulego di Bisignano corsara sul parchè dell'Allianz di Castrovillari, 23-25-25-21, 15-25-23-25 lo score. Vince solo un set il sestetto locale, ma proprio in quel set c'è la chiave della sconfitta. Attenta in ricezione, efficace a muro, aggressiva in difesa, pochissimi gli errori in battuta. In attacco efficaci sia Quercia che Berardi, questo grazie anche a una corretta ricezione della squadra, che ha permesso al palleggiatore Oliveto di servire al meglio le bocche da fuoco. Efficace e buoni fatti negli attacchi dal centro, ma anche quando è stato chiamato a murare gli attacchi degli avversari. Peccato che i rossoneri abbiano giocato così un solo set. Comunque è una squadra giovane, ci sarà tempo per Guaragna e Trudo di mettere a posto le cose.